Benvenuti fericini! Ciao ciao ciao! Sapete che arriva oggi? Nooo! Arriva mio cugino Streius! Streius? Si si, mio cugino Streius. E' un cugino che viene da molto lontano e viene a trovarmi per un po'. Ogni tanto fa un giro dalle mie parti e viene a trovarmi ma ancora non è arrivato. Ma di solito il tuo cugino fa così tanto evitare delle altre cose? Non lo so, non lo so! Questo cugino non lo vedo quasi mai! Mamma mia! Quando arriva? Quando arriva? E' già un po' che aspetto! Cugino? Cugino? Ci sei? Oh! Forse è arrivato Streius! Streius? Sei tu? Si si! Sono io! Sono io! Ciao! 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 Oh! Ciao Streius! Che bello rivederti! Ah! Fatti una roba l'abbraccio! Oh! Si 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 si! Che bello rivederti! Hai proprio una giornata! Eh? Allora, dimmi un po' Streius! Che ci fai da queste parti? Sono venuta a trovarti! Sono venuta a trovarti per un po' perché mi mancavi tanto! Mi mancava questo ambiente, mi mancava questa vita calma! Io ho sempre una vita molto frenetica, lo sai, per via del mio lavoro! Ah! Di a tutti che avevano Fai Streius! Io sono un'assenziato! Un'assenziato passo! Ah! Un'assenziato fai! Si si! Si si! Oh! Quanta bella gente da dire dello schermo! Chi sono questi? Chi sono? Giustino, dimmi un po'! Questi sono i fericini! I fericini! Eh? Si si! I fericini! Sono fantastici! Sono tanti bimbi fantastici con le loro manne! Oh! Che bello vederli tutti insieme! Sono felici per voi anche io! È bello questo nome Felicini! Mi sa appunto di felicità! Wow wow wow! Allora, che ne dici se cominciamo con un esperimento? Che ne dici eh? Oh! Esperimento! Che esperimento? Dimmi un po' Streius! Oh! Pensavo ad un esperimento con l'acqua! Che ne dici? Facciamo un esperimento con l'acqua? Oh! Per favore con quest'acqua! Ma è una fissazione! Io non voglio fare nessun esperimento con l'acqua! Lasciatemi in pace sai! Oh! Va bene! Va bene Giustino! Ma che succede? Io non amo l'acqua! Amo l'acqua quella pazza di Rosy! Lasciamola stare ma che meglio! Oh! Dov'è Rosy? È tanto che non la vedono ma poi non puoi chiamarla! Che dici? Rosy! Rosy! Dove sei? Giustino! Sto facendo la doncia! Lasciami in pace! Sto facendo la doncia! Sono stata dal mare fino a più cosa! Eh! Te l'ho detto! Quello è sempre nell'acqua! Io sempre l'asciutto ma lei è sempre nell'acqua! Una pazza! Cremi! Una pazza! Oh! Mamma mia! Giustino! Va bene! Ma adesso facciamo una cosa! Per oggi salutiamo i nostri felettini! E mi ripresento! Io sono Strelius! Non so se conoscete Strauss! Sicuramente i vostri genitori li conosceranno! Lo conosceranno Strauss! E io sono un lontano parente! Strelius! Ah! Ma Strelius perché parli così? Perché io ho parlato sempre così nella mia vita! Ho un accento un po' un po' così! Sono un po' così ma... Amo i felettini! Lo sapete? Amo i felettini! Sì sì! Mi sto nemmeno anche io di questi felettini! Eh! Sai bene! Sai bene! Sono fantastici! Sai! E ci servono tanti! Ma ti sei iscritto al canale? Sì sì! Mi sono iscritto al canale! Anche voi felettini! Scrivetevi al canale! Sì sì! Mi raccomando! Scrivetevi al canale! Io vi seguivo dal montano ed eravate molto simpatici! Mi siete piaciuti tantissimo! E poi ho visto tanti giochi divertenti! Tanti giochi educativi! Informativi! Stupendi! Veramente Giustino! Stai proprio insieme a persone fantastiche tu! Mi piace stare con voi! Chissà se sarò a lungo! Uff! Non cominciamo a dire che sarai a lungo! Ah! Poi vedremo eh! Va bene! Pensiamo ad ora! Ok! Adesso salutiamo un po' i nostri felettini! Ti porto a fare un bel giro! Ok Strayus! Sì sì! Va bene! Va bene! Salutiamoli tutti! Mi raccomando! Allora iscrivetevi al canale! Cliccate sulla campanella! E mi raccomando condividete il video di Strayus! Allora! Felicini! Iscrivetevi al canale! Felici si impara! Come ha detto Strayus! E cliccate sulla campanella per avere nuovi aggiornamenti! Seguite le avventure su Giustino e Strayus! E anche le avventure di Giustino e Rosi! Di Enrica Comi! I video educativi! I video che fanno ridere di Enrica Comi, Giustino e Rosi! E magari qualcuno di Strayus! Oh! Mamma mia! Hai visto quanto è breve la nostra aiutante? Eh sì sì! Lo vedo che è molto formata! L'avete formata bene! No no! Era già formata di suo! Prova brava! Va bene Felicini! Vi saluto! Ciao ciao Felicini! Al prossimo video! Ciao! 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 Al prossimo video! Ciao!